Ciao, sono Gianna, Michael, Emanuele, Michele, Fabio. Nel mio percorso da runner ho avuto molti alti e bassi. Ho pensato anche di riuscire. Perché non mi sentivo più sicuro? La mia passione non mi dava più certezze. Ho voluto sfidare i miei record. Ho voluto raggiungere la mia massima performance. Ma sentivo che questo avrebbe potuto farmi male. Senza che me ne accorgessi. Poi ho scoperto Aegis. Con Aegis ho trovato un nuovo modo di allenarmi. E mi ha assicurato di avere sempre una persona al mio piano. Che potesse aiutarmi. A vivere la mia passione nel modo più sicuro. E vincere la mia prima maratona. Per la mia passione vale la pena non rischiare. E lo posso fare. Con Aegis. Con Aegis. Con Aegis. Con Aegis.